adesso sta filmando zoom a un po' che vediamo quel color hai visto che per farlo più veloce devi farlo ieri qua si ma a me non piace che lo riusero questo è lo stesso? anzi forse, metterlo più lento no, questo funziona sempre veloce magari si può modificare da lì sotto no, qua c'è il rilek numero 4 Niccolò Nelcazelli numero 3 numero 5 numero 5 Anneli numero 19 San Anneli numero 44 Mattia Matti numero 5 Daniele Dancini il numero 30 Daniele Nelcazelli numero 40 Daniele Sciogli numero 40 Non mi sembra anche Un elástico Andrea Andrea Un'altra 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.